Noi restiamo nel mondo dei motori ma passiamo alle quattro ruote perché Marco Signore e Corrado Bonato su Skoda Fabia Rally Evo hanno conquistato il Rally Lazio Cassino Pico l'evento organizzato dal patron del Rally Roma Capitale Max Rendina è valido come Coppa Nazionale della Rally AC Sport. Si è disputato venerdì e sabato, ieri sera l'arrivo a Cassino dopo una due giorni di prove spettacolari che hanno visto la partecipazione di 152 equipaggi e di migliori piloti italiani.